A me non è che mi abbia fatto molto piacere, devo essere onesto, l'avrei fatto volentieri a meno. Però altri erano contenti, altri meno, come in tutti i sorteggi. Poi tanto, alla fine quello che conta è il campo. No, loro nell'ultima dieci partita hanno perso una volta sola. Una squadra che ha cambiato volto rispetto a prima. Stanno facendo molto bene. A Castellammare hanno vinto meritatamente. Ogni tanto cambia delle intuizioni il loro allenatore, come il falso centravanti Canutè, i movimenti di Sant'Anna e Floriano. Una squadra che ha entusiasmo, è una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo affrontato noi nel girone di ritorno. Non tanto quella del girone di randata, perché il girone di randata erano le prime partite, mi sembra la seconda, se non vado errato. Una squadra che sta bene, è una squadra che ha già fatto due partite dei play-off e l'ha fatta dominando la partita. Perciò è una squadra che merita assolutamente rispetto. È una squadra forte. Devo dire che il loro allenatore sta facendo un bel lavoro. Io l'ho sempre visto come secondo di Boscaglia, invece ora lavora in proprio, diciamo. e ha delle belle idee, basta vedere come giocano, basta vedere le intuizioni che ha, i cambi che fa. Perciò è una partita difficile da studiare bene, da preparare bene e poi andiamo a giocarcela come sempre.